Siamo votati Gesù e Maria. Le candele che abbiamo benedetto in cui ha iniziato questa Santa Messa, con la processione, ci ricordano le parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo, rivolte dal santo vecchio profeta, Signore Gesù. Lui è la luce per illuminare le genti e la gloria del tuo popolo Israele. Quindi la lampada accesa implica il fatto che noi riconosciamo Gesù come luce del mondo e manifestiamo la nostra vede in Lui. Penso che tutti non lo ricordiamo perché non eravamo consapevoli, abbiamo visto qualche volta fare un battesimo, abbiamo fatto da padrino e da madrina, l'avete visto con il sacerdote, accende la candela al cielo pasquale, la consegna al padrino e alla madrina. Che significa? Quella è la luce della fede che si accende in quel giorno nell'anima del battezzato, diciamo che deve essere custodita dal padrino e dalla madrina, che ha il compito di aiutarla a crescere e che deve essere alimentata. Capite? La fede, la luce di una candela si alimenta attraverso la cera. Se la cera finisce, la candela si spegne. Questo ci ricorda anzitutto la prima cosa molto importante, che la fede che abbiamo ricevuto va custodita, va alimentata, è fatta crescere. Come si fa? Curando la nostra formazione, ascoltando qualche buona predica, facendo delle buone letture, pregando, frequentando i sacramenti, sennò poi, come una candela, la fede si spegne. Dopo oggi a dire, a padre mi piacerebbe tanto che la fede è come la sua, qualcuno lo dice così, dicono, guarda che ce l'hai pure tu, perché il battesimo mio non è che va arrivato più rispetto al tuo quadro, bisogna notare assolutamente vedere che ci hai fatto con la candela, che ti hanno dato il giorno del battesimo. Questa è la prima cosa. Sapete che la candela è usata nella liturgia, no? Quando si apriamo la messa, vengono accese le candele sull'altare. Perché? Perché la candela indica anche la presenza di Gesù, no? Davanti al tabernacolo, in fondo, sapete che c'è sempre una candela accesa. Quando si entra dentro una chiesa, la prima cosa che bisogna fare, darsi subito un occhiato in giro per vedere dove sta la candela accesa per salutare Gesù con la genomessione. Davanti ai santi, che facciamo? Noi accendiamo le candele. Mi sento mi chiesto, perché stai facendo le candele davanti ai santi? Mi sento mi chiesto un gesto di devozione, no? Perché la candela? L'avete mai pensato? Perché attraverso la candela, la candela è sempre la luce, no? Che cosa dico? Io riconosco, faccio un gesto di generazione al santo, state attenti, eh? Gli dico, cara Madonna, pure caro Sant'Antonio, cara Sant'Arita, io riconosco che in te ha brillato la luce di Gesù, eh? Perché i santi non è che sono santi senza Gesù, i santi sono santi perché la vita di Gesù in loro ha vissuto alla grande, perché l'unico santo è sempre Dio, i santi sono coloro che si sono riempiti di Dio, e quindi accendono la candela come un gesto di devozione o di implorazione della loro intercessione per ottenere qualche grazia. Ecco quello che succede alla candela. Vi ho detto nel mese di novembre, per esempio, che le candele sono anche un sacramentale, specialmente per le benedette, che si portano le tombe dei defunti. Perché è un sacramentale che è efficace? Perché fa bene gli animi dei defunti? Perché anche quello, portare una candela accesa e metterla davanti a una tomba, è come, come dire, ravvivare, fare un atto di fede con il defunto, Gesù è la luce, Gesù è la tua salvezza, e io chiedo a Gesù, attraverso questo segno, che accedere il tuo processo di purificazione e ti apprevi i tempi del purgatorio. Sapete che le candiere benedette possono anche essere tenute dentro casa. Guardate che le candiere benedette sono una potente arma di difesa contro gli nemici. Io mi ricordo tanti anni fa, da un esorcista, che qualche diavolo gli aveva detto che se lui vede una candela benedetta accesa, il diavolo, eh, si scende. Non lo posso portare, perché la luce di una candela benedetta è la luce di Cristo. Capito? Vorrà detto anche, no? Io, per esempio, sono tanti anni che il 31 ottobre, quelli che vanno a presa al mondo accendono le candele dentro le zucche, perché secondo me c'erano le zucche vuote, eh. E io, la notte del 31, accendo la bella candela, perché la festa è la vigilia dei santi, io con la candela benedetta accesa, dico, no, no, a me della zucca vuota non mi importa niente, io oggi sono contentissimo, perché festeggi tutti quanti i santi, che mi hanno dato un buon esempio, che spero un giorno, un povero peccatore, che diventa santo pure io, che sta in compagnia loro. Capito? Tutte quante queste cose, sono cose importanti, per cui è bene che noi viviamo anche questi gesti e non in maniera eccessivamente devozionale o quasi a volte, non è il vostro caso superstizioso, ma comprendendo neanche il significato, perché quando la Chiesa fa dei segni sacramentali, ha sempre delle altissime cose da trasmetterci e da farci vivere. Questo per quanto riguarda le candele. La festa di oggi, come sapete, sono presentato al Tempio e un tempo questa festa, chiudo con una breve riduzione mariana, si chiamava la purificazione di Maria, perché insieme a questo gesto che abbiamo letto nel Vangelo, ce n'era un altro e aveva tanta devozione, ricordavo. La Madonna, come Gesù, come tutti gli ebrei, si è assoggettato alla legge di Israele, ma guardate che Gesù era figlio di Dio, poteva ben dire, diceva che mi aveva da presentare al Tempio io, cioè era lui stesso che aveva creato quelle legge, capite? Però ha dato un buon esempio, io sono il primo ad osservare la legge che io stesso ho dato. Non si è dato la dispensa. Noi ogni tanto ci diamo la dispensa della legge di Dio, ma Dio da se stesso non se ne è data da rispettare da tutta la legge. E la Madonna in quel giorno si faceva anche un'altra cosa, ancora più umiliante, perché le donne, dopo 40 giorni, dovevano fare un bagno sacro, rituale, di purificazione. Perché siccome una donna partorelle vendeva sangue, nella legge di Dio l'unico c'era scritto che quando una donna perde sangue è impura, è impura. Quindi come quando una donna ha i problemi suoi che tutti quanti capite, durante il periodo in cui la donna aveva problemi suoi nessuno poteva toccarla, perché se la toccavi ti è ricontaminato. Non poteva neanche essere toccata. Finito in quel periodo doveva farsi un bagnetto rituale dentro casa e poteva riavare una vita normale anche con il marito. Così quando partoriva c'era una cosa ancora più grossa, cioè doveva regarsi al Tempio di Gerusalemme 40 giorni dopo, fare un bagno rituale, purificarsi, ecco perché la purificazione di Maria ma tenta che cosa deve purificare Maria e poi ritornare ad una vita normale. La Madonna ha bisogno di un bagno di purificazione, perché ricordate che la Madonna non ha partorito come hanno partorito molte di quei che stanno qui. Il parto della Madonna è stato un parto virginale. La Madonna non ha né guidato, né ha avuto le toglie, né ha perso sangue. Però vedendo anche lei nella sua umiltà si è sottoposta a tutto quello che faceva a Ponte umilmente senza battere cingli. Quindi lei mi ha chieduto sembrava una donna comune, la povera peccatrice, figlia da Davoga, affaccava lo che faceva a Ponte. E questo mi fa tanta devozione perché ti dà un grande esempio a mio avviso di grande umiltà. quando una persona è santa veramente non lo dà a mostrare. E' una delle prime cose importanti che dobbiamo provare a fare è di qualsiasi cosa non andare a fare eccezioni, differenze, cose di questo genere. Tranquillo. Se l'ha fatto la Madonna e se l'ha fatto Gesù questo possiamo fare quello che loro erano santi sul serio. Cioè la santità deve trasparire solo da una cosa come traspariva la Gesù. Dalle virtù che tu hai e che per quanto stai attento a ostentarle quasi vedo perché se tu tratti sempre bene il prossimo il prossimo se ne accorgi giusto? Se tu non parli mai male di nessuno guardate che c'è qualcuno che dicevo io non ho mai sentito dire mezza parola storta di nessuno e questo è vero. Se lo fai se vede se non lo fai non se vede se tu sei una persona che prega anche se non lo devi ostentare se vedi d'accordo perché se uno prega va in chiesa e non lo fai ecco quindi l'unica cosa che si vede sono le virtù il resto non va mai in nessun modo ostentato ma lo lasciamo che lo conosca soltanto il Signore e lo confondiamo con una vita apparentemente normale che è sempre la cosa più gradita al Signore che non chiami l'attenzione che non desti hanno un accetto a riflettore vuoi pensare quant'è lontano questo stile di vita da quello di oggi perché oggi la gente fa gara a chi sta prima sotto il riflettore e ora che c'è sta internet la televisione e il resto è ancora peggio da prima d'accordo quindi chiediamo veramente a Gesù e Maria che insieme alla fede che gli chiediamo sempre di mantenerci in vita e in buon vigore ci concederà anche questo stile di vita sobrio dimesso e nascosto che tanto piace a Dio ma che anche è simpatico gli occhi degli uomini perché quelli che stanno sempre a mettersi in mostra e a fare non sono tanto simpatici ecco e molte volte uno non è tanto simpatico quando non vive tanto in comunione con quello che Dio vorrebbe e desidera siamo donati Gesù e Maria sempre siamo donati grazie a tutti grazie a tutti